Marcello Napoli, direttore del reparto di nefrologia primario, oggi giornata del rene 9 marzo 2017, come si stanno svolgendo le cose e mi sembra doveroso farle la domanda per quanto riguarda quale futuro sarà per l'ospedale di Galatina? Riguardo la prima domanda, le cose vanno bene perché ormai è un percorso collaudato, sono diversi anni che noi celebriamo la giornata mondiale del rene, gli altri anni ci siamo usciti dall'ospedale, siamo andati nelle piazze, nelle scuole. Quest'anno invece abbiamo messo a disposizione la nostra struttura, una parte della struttura della sala consigliare per ricevere invece ragazzi, popolazione, chi ha voluto presentarsi per lo screening. Per cui direi che la giornata mondiale del rene è sempre stato un successo per la nostra struttura, il dottor Sozzo che ha curato negli anni l'organizzazione è sempre molto attivo e i risultati si vedono. La seconda domanda deve essere un po' più articolata, intanto perché l'ospedale di Galatina sembra che sia il primo dove verrà attuata la riforma, purtroppo vedrà la chiusura di alcune branche gloriose, storiche, che tanto lustro hanno dato questo ospedale a tutta la cittadinanza. Mi riferisco in particolare alla ostetricia che purtroppo non sarà prevista. E questo è una grossa perdita, un po' per la professionalità del dottor D'Ambrogio e di tutti i suoi collaboratori che verranno ovviamente dislocati in altre strutture. E' un po' perché Galatina perde, ripeto, una branca, un'attività che è sempre stata attiva dal fatto da richiamo su tutta la provincia. Tuttavia io sono sempre ottimista per natura e penso a quello che invece sarà l'ospedale di Galatina. Un ospedale probabilmente orientato verso un'attività spostata verso la geriatria, persone oltre una certa età, ma non solo, perché rimangono branche importanti come la nostra unità operativa, anche se non sarà un'unità operativa complessa, in quanto il piano nazionale prevede un'unica nefrologia con primario in tutta la provincia e quindi questa dovrebbe essere Lecce. Ricordo che già al momento io faccio il primario a Galatina e a Lecce e in futuro probabilmente la mia sede dovrebbe essere Lecce. Però Galatina rimarrà come unità complessa, come unità semplice, mantenendo i posti letto, anzi vengono portati da 10 a 12. Manterrà l'attività di gestione della lista d'attesa per il trapianto da vivente e anche da cadavere ovviamente. Manterrà tutte le sue attività ed io credo che insieme con la pneumologia che è stata mantenuta, insieme con la cardiologia che è stata mantenuta, si possa creare una sorta di dipartimento nefro-cardio-pneumologico che possa quindi gestire pazienti complessi, essere da supporto anche a branche importanti come la ortopedia, dove discutevo pochi giorni fa con il dottor Rollo, l'attuale responsabile come me sia di Lecce che di Galatina, il quale prevedeva proprio per Galatina un'attività di ortopedia legata alla patologia dell'anziano. Quindi è chiaro che noi perdiamo i neonati, però acquistiamo molto nel settore della geriatria. Nell'essenza delle cose è un grande dispiacere perdere l'ostetricia, ma se uno deve fare marketing, attualmente noi abbiamo che i neonati stanno diminuendo, diminuiscono le nascite, mentre aumenta in maniera esponenziale la patologia geriatrica. Quindi da questo punto di vista io non prevedo un futuro negativo per l'ospedale di Galatina se è un ospedale votato più sulla geriatria. E quindi perché non essere ottimisti? Perché non pensare che... Ma no, non è la lungodeggenza. La lungodeggenza è un'altra cosa. La lungodeggenza è la possibilità di far transitare il paziente che da acuto diventa dimissibile, ma non trasportabile a domicilio. Allora può transitare nella lungodeggenza per un periodo più o meno lungo, invece che transitare nei reparti per acuti tipo il nostro, dove avendo pochi posti letto noi dovremmo gestire effettivamente l'acuzia e poi passare il paziente ad una lungodeggenza. Io, ripeto, non sono pessimista. Non sono pessimista perché la patologia geriatrica è la patologia del presente e del futuro e il futuro di questo ospedale dipenderà, come sempre, non tanto dalle etichette che vengono date, quanto dalle capacità dei singoli professionisti. Perché la gente non interessa se un ospedale è di base, di primo o di secondo livello, la gente interessa ricevere risposte. Se i professionisti che opereranno nell'ospedale di Garadina sapranno dare le risposte, la gente verrà, come è sempre venuta, a usufruire dei nostri servizi. La sensibilizzazione che ha preceduto questa giornata è stata abbastanza, si dice, ficcante, cioè abbastanza importante sia attraverso i giornali che i vari siti web. Siamo riusciti a sensibilizzare e a portare all'attenzione questo evento. Un evento che ha un'origine un pochino distante nel tempo, è iniziato in America con la Kidney Foundation nel 2006 e poi in Italia venne fatta nel 2007. E noi dal 2007 praticamente partecipiamo, aderiamo a questa giornata, quindi sono ben dieci anni che la nefrologia di Garadina partecipa a questo evento. Evento che ha un obiettivo soprattutto di sensibilizzare e di divulgare la conoscenza sulle malattie renali. Malattie renali che sono diventate sempre più importanti nel corso degli ultimi anni perché è cresciuto la vita media, perché sono cresciute le malattie che determinano danni renali tipo il diabete e l'ipertensione. Quindi è chiaro che il costo sociale è cresciuto per poter trattare questi pazienti. Di conseguenza bisogna mettere in atto delle azioni di screening, cioè di ricerca, dei primi sintomi della patologia. E' proprio questo l'obiettivo della giornata del rene. Cercare di sensibilizzare tutta la popolazione, dai giovani nelle scuole medie e superiori fino anche all'anziano che ha patologie magari spesso misconosciute perché la patologia renale spesso, tranne per i calcoli, non ti dice niente. Lo troviamo solo, lo evidenziamo solo attraverso un semplice e banale esame urine, la rivelazione di una pressione arteriosa, la rivelazione dello zucchero nelle urine. Sono già i primi campanelli d'allarme per una patologia, ripeto, che colpisce circa il 10% della popolazione mondiale. Fate un po' i conti. Oggi la giornata del rene viene così celebrata in tutte le nazioni mondiali, dall'Africa alla Malesia. E dà proprio questo obiettivo, sensibilizzare la popolazione a questa patologia. Quest'anno il tema è malattia renale e obesità. Si sa benissimo che l'obesità è cresciuta, moltissimo, quindi è che la stessa obesità, il tessuto adiposo è un vero organo poliendocrino che produce delle tossine e contemporaneamente c'è anche il danno renale che va monitorizzato. Quindi ogni anno, diciamo, si mette un tema in evidenza. Malattia renale e obesità, noi per questo motivo, anche quest'anno, come tutti quanti gli anni, valutiamo, oltre all'esame urine, la pressione, il peso, il BMI, cioè il Body Mass Index, che sono appunto i primi segni, la circonferenza addome di una obesità che purtroppo stiamo rilevando sempre in maniera più frequente nella popolazione giovanile. Nel corso della giornata mondiale del Rene, anche quest'anno teniamo in considerazione che è bene iniziare a sensibilizzare i ragazzi, soprattutto i giovani che diventeranno adulti nei prossimi anni ed è anche altrettanto importante farli venire in un ambiente come questo ospedaliero per poter da vicino rendersene conto di quella che è la nostra attività. Dobbiamo considerare che ne approfitto di questa giornata per poter praticamente rendere noti quelli che sono stati anche dati ambulatoriali per ciò che concerne la donazione trapianto a Garatina. Possiamo dire che nel corso del 2016 siamo rimasti entusiasti del traguardo ottenuto. Abbiamo circa affrontato dei problemi organizzativi ma abbiamo ottenuto dei risultati numerici di notevole importanza. Sono nove i pazienti che hanno trapiantato nella città di Bari ma anche in altre realtà regionali italiane di questi nove e tre hanno fatto un trapianto di rene da cadavere mentre altri sei hanno affrontato in altri ottimi centri nazionali e eccellenze nazionali trapianti di rene da vivente. Di questi sei, tre sono pre-entif di cui uno è a B0 incompatibile. Siamo certi che anche nel prossimo anno possiamo ottenere e confermare il successo di quest'anno ovviamente speriamo che anche per quest'anno già iniziato abbastanza bene con degli ottimi numeri anche in termini di donazione e di trapianti da vivente si possa avere il prosieguo di un percorso creato sei anni fa e che spero abbia ulteriore successo.